Grazie al Movimento Distributista per questa possibilità. Io andrò illustrando alcuni slides che magari possono sembrare un po' fuori dal mondo. Qualcosa che può spaventare e che può far pensare, ma questi da dove vengono? Che cosa ci dicono? Che cosa ci stanno raccontando? Ora, l'invito è quello che magari chi mi ha già visto fa, che rivolgo solitamente. Ovvero, mettete in dubbio ed in discussione qualunque cosa vi venga detto. E quindi andate a cercare, andate a verificare, controllate in rete, andate sui siti ufficiali, cercate le fonti ufficiali e verificate se quello che vi viene detto questa sera corrisponde al vero o se invece è il contrario magari o chissà che cosa aveva mandato dovuto prima di arrivare qui. Quindi verificate sempre e troverete il riscontro di tutti i dati che vi vengono forniti. Ovviamente io adesso parto, poi magari parlando può integrare le slide di volta in volta. Rispetto a ciò che viene detto, quando si parla di quella parte di informazione che non passa per il cosiddetto mainstream, cioè ciò che non viene detto dai media, tv, giornali e radio, all'altro può spaventare, può essere completamente fuori dal mondo. Ci sono due possibili reazioni che sono entrambe autolesioniste a mio avviso, ovvero quello del terrore, un terrore che ci fa prigionieri e ci immobilizza, è quello del sonno. Se una persona non sapeva, non era informata, non era, comincia ad acquisire un pochino di elementi e chiaramente intraprende un percorso che è di risveglio, di presa di consapevolezza, di conoscenza. Se invece la persona fa finta di dormire, chi fa finta di dormire non viene svegliato neanche da un colpo di cannone, per cui c'è poco da fare, è il non voler comprendere come stanno le cose. E a proposito di poteri forti che ci governano e di concentrazione del potere, della ricchezza, nelle mani di pochissime persone, di pochissimi gruppi, di pochissime realtà, purtroppo dobbiamo renderci conto che è una situazione nella quale siamo immersi. In che modo quindi reagire? Per gravi, dall'informazione, dal collezionare informazioni, dati, fatti e dal cominciare ad elaborarli mettendoli e mettendoci in discussione. A volte non è facile, perché si arriva da delle esperienze, magari da dei percorsi umani di formazione che sono durati decine d'anni e cominciare, come dire, ad aprire quella porta che ci dischiude, che si apre su un mondo completamente diverso da quello che ci eravamo immaginati o nel lavoro, eravamo convinti di essere, è chiaro che diventa frattornante, diventa difficile, è un'operazione complessa, ma è l'unica che ci può consentire di avere quelle chiavi che ci rendono liberi, effettivamente persone libere. Già nel 1863 un personaggio importante come Sherman Rothschild, di questo casato, di questo gruppo avremo modo di parlarne ancora, ma vi basterà anche in questo caso fare semplicemente una verifica attraverso Internet e vedere chi è, che cos'è questo colosso, questo gruppo Rothschild a livello globale, a livello mondiale e troverete una diramazione a livello bancario e finanziario davvero impressionante. Nel 1863 questo personaggio diceva, pochi comprenderanno questo sistema, coloro che lo comprenderanno saranno occupati dallo sfruttarlo, il pubblico forse non capirà mai che esso è contrario ai suoi interessi. Ed effettivamente una volta che si comprende questo sistema, ci si rende conto che è fatto per renderci schiavi. Per occuparci, anche oggi, per colonizzarci, ci stanno trattando in un modo in cui siamo vittime di un vero e proprio cannibalismo da parte della grande finanza, della speculazione e da parte di questo capitalismo, il post capitalismo mi permetto di dire, perché quando tante ricchezze, tanta parte dell'economia viaggia con denaro creato dal nulla, con ricchezze che effettivamente vengono create da denaro per il denaro, sulla base esclusiva del profitto, ci troviamo di fronte veramente a qualcosa di mostruoso, che va al di là di qualunque principio valoriale e da quel senso comune, da quella ragionevolezza di cui parlava giustamente prima Martarioli. Il sistema, ho parlato di sistema, il sistema dei poteri forti, vi voglio fare un paio di citazioni, anche queste le trovate in rete. Il terrorismo, e partiamo con un sguardo più, se vogliamo geopolitico, di politica globale, internazionale, il terrorismo ha rimpiazzato la minaccia, anche nucleare, sovietica e i terroristi hanno rimpiazzato i comunisti nell'immaginario collettivo. L'Occidente e gli Stati Uniti hanno bisogno di un nemico per giustificare il loro imperialismo e per soffocare la presa di coscienza dei cittadini e dei popoli. Queste considerazioni appartengono a Dines Brevinsky, politologo, stratega ed è un uomo chiave per gli Stati Uniti, ha lavorato anche per un lungo periodo per l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza degli Stati Uniti. e questo ci spiega come, ai livelli più apicali, ai vertici, a livello mondiale, ci sia la necessità di creare dei nemici, anche se questi vengono creati artificialmente, sulla base di vere e proprie menzogne o come dire di episodi che talvolta vengono letteralmente costruiti artificialmente per poter giustificare una serie di reazioni. Da questo punto di vista suggerisco la lettura di Shock Economy di Naomi Klein, il libro di Naomi Klein, che spiega proprio come la dottrina dello shock venga utilizzato per consentire l'imposizione di misure e l'adozione di provvedimenti, di politiche che semplicemente sarebbero inauditi, totalmente inaccettabili. Il politicamente inaccettabile diventa politicamente necessario e in quanto tale, come dire, pieghiamo il caso. Anche Monti l'ha detto specificamente in un'intervista che le crisi sono assolutamente necessarie, senza le crisi non ci sarebbe. Non a caso Mario Monti è uno dei cosiddetti allievi della scuola di Milton Friedman, che a partire dal Cile, via via, utilizzando tutte le crisi possibili e immaginabili dal punto di vista economico, piuttosto che legato a delle catastrofi o a delle calamità naturali, questi strumenti sono serviti ai poteri forti per poter far tabula rasa e per imporre un sistema non solo capitalistico, ma anche di vera e propria spremitura finanziaria di ogni risorsa possibile e immaginabile. E quando parlo di risorse parlo ovviamente di ricchezze, tangibili, materiali, quindi denaro, bene e ricchezze, ma anche territori, risorse come materie prime e fin in ultimo l'uomo. i cittadini, le persone, gli stati, i paesi. Facciamo un esempio, un esempio molto banale, però immagino che vi sarà capitato, prima o poi, di ricevere una richiesta per sottoscrivere una petizione da parte di Ava, petizioni interessantissime, alcune davvero straordinarie, dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, altri per quanto riguarda la difesa, l'autodeterminazione dei popoli, altri dal punto di vista economico, altri ancora su diversi tipi di ingiustizia che affliggono il nostro paese dal punto di vista ambientale, piuttosto che di diritti veri e propri. attenzione, quando si firma una petizione Ava, bisognerebbe sapere che questa struttura è stata creata come un vero e proprio sfogatoio interno al sistema dei poteri forti. Ava, infatti, è creata con la supervisione di Repubblica, fondata a troppe volte dall'Open Society Institute di George Soros. Chi è George Soros? Mi diceva, vabbè, finco pallo, piacere di conoscere, ma chi è? George Soros è particolarmente attivo nel settore dei derivati, con contratti in essere per oltre mille miliardi di dollari. È stato condannato all'Ergastoli in Maledio per speculazione finanziaria, mentre in Italia ha ricevuto la laurea a un'oris causa in economia da Prodi. è uno dei finanziatori delle rivoluzioni fiorite, colorate, piuttosto che stagionali, basta pensare alle cosiddette primavero arabe, che in molti punti sono nate in maniera del tutto spintanea. È contropretario, insieme ai Rothschild, ecco che ritorna un conome di cui abbiamo già parlato, del Quantum Fund, che è uno dei fondi speculativi più scatenati a livello mondiale. È un finanziario globale, lui si muove su tutti i mercati, non c'è confine, non c'è limite, se non quello del pianeta. È ex direttore del Council on Foreign Relations, e anche di questo parleremo ancora. È sponsor dello Human Rights Watch, quindi attenzione, quando prendono via campagne di difesa dei diritti umani? Cerchiamo sempre di controllare bene come partono, da chi partono, su quali presupposti e quali sono le informazioni oggettive che stanno alla base. Chiediamoci se non ci sia una manipolazione politica, economica o finanziaria alle base, perché spesso invece è proprio di questo che si tratta e i diritti umani vengono in qualche modo spiracchiati da una parte o dall'altra per dare un paravento, una copertura d'operazione che sono tutt'altro che di tutela dei diritti di qualche gruppo particolare di cittadini, se non di popolazione intere. Il Stato è stato sponsor anche delle rivoluzioni fiorite e colorate della primavera araba, ma è anche numero di garanzia dell'International Crisis Group, ICG. Cos'è sta cosa? Se ne parla mai? L'ICG è questo istituto che fornisce indicazione a governi, all'ONU, alla Banca Mondiale e all'Unione Europea e come tale sarebbe bene sapere che esiste e che funzioni ha. Fra l'altro dell'International Crisis Group fa parte anche Brzezinski, quello di cui ho parlato prima, la famosa citazione in apertura sulla costruzione dei nemici utili per poter giustificare una determinata condotta a livello globale. Questo ICG, International Crisis Group, è supportato da moltissimi governi e da delle istituzioni intergovernative come ad esempio l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti e la Commissione Europea e poi è supportato da fondazioni come l'Open Society Institute di George Soros, di cui abbiamo parlato prima, e dalla Rockefeller Brothers Fund, cioè da un fondo che appartiene ai Rockefeller. Tra i membri privati, quelli che vengono definiti corporate members dell'ICG, ci sono anche il gruppo bancario Morgan Stanley, la Chevron e la Shell, quindi multinazionali e gruppi bancari. Attenzione, faccio un passo indietro. Abbiamo detto che l'ICG fornisce indicazioni a governi ONU, Banca Mondiale e Unione Europea e fra i membri privati di questa struttura ci sono dei gruppi bancari e delle multinazionali. Quindi la domanda che ne deriva è che tipo di indicazioni forniranno queste organizzazioni intergovernative? Se ne parla un po' troppo poco, ci sono due grossissime realtà che lavorano rigorosamente di invito a visitare i loro siti ufficiali a porte chiuse, nel segreto. Eppure sono istituzioni che fungono da advisor, da consiglieri, da suggeritori delle politiche che devono essere adottate dai vari governi o dalle realtà come quelle, ad esempio, europee all'interno delle quali ci troviamo, Commissione Europea, Banca Centrale Europea, Consiglio Europeo. Sono la Chatham House e la Brookings Institution. La Chatham House ha come funzioni, lo tratto direttamente dal sito, la direzione, il coordinamento, la progettazione e l'implementazione delle attività dell'agenda politica internazionale, cioè un fact-talking di ciò che va fatto a livello politico internazionale. È dominata però da degli interessi che sono militari, non dei cittadini che in qualche modo ricevono le applicazioni delle loro decisioni. E pensate come membri a livello decisionale, questa Chatham House ha la Goldman Sachs, Mario Monti è un nome Goldman Sachs, Mario Draghi è Goldman Sachs, Romano Prodi è Goldman Sachs, pensate a ruolo per l'ingresso dei paesi all'interno dell'area Euro, chi ha certificato i bilanci? Goldman Sachs, Grecia, ma anche Italia. Poi in mezzo ha la Saudi Petroleum Overseas, quindi il colosso petrolifero dell'Arabia Saudita, poi la BASP, chimica, il gruppo dei diamanti De Beers, la Banca Mondiale, la Unilever, che è questo colosso multinazionale praticamente di tutto di più, la British Petroleum, ma anche multinazionali farmaceutiche e gruppi finanziari, oltre ad azionisti delle agenzie di rating. Cioè la Chatham House è fondamentalmente diretta e gestita da questo tipo di interessi e indica le politiche a porte chiuse, le decide, ma le indica ai vari governi e alle organizzazioni internazionali. Quindi capiamo già che tipo di indicazioni arrivano e perché siamo sempre costretti in fin dei conti a pagare di tasca nostra, nel senso elettorale e non solo del termine. A proposito della Brookings Institution, è bene rilevare che ci sono diversi economisti italiani che hanno lavorato o che collaborano attualmente con questa istituzione, molti dei quali o alcuni dei quali, come dire, svolgono un ruolo piuttosto fondamentale o essenziale anche rispetto a ciò che pare essere il nuovo. E quindi dal punto di vista politico è bene fare attenzione e andare a verificare chi sono gli economisti italiani collegati a questa istituzione, chi supportano e cosa dicono. Il Brookings Institution ha per obiettivo, anche quello tratto dal sito, rinforzare la democrazia americana, favorire il rivolto economico e sociale, la sicurezza e l'opportunità per tutti gli americani e assicurare un sistema più sicuro, prosperoso e cooperativo a livello internazionale. E questa è una delle realtà che indica anche a livello europeo che cosa va fatto e che cosa non si deve fare. Ma secondo voi un'istituzione di questo tipo guarderà gli interessi dei cittadini europei, dei paesi membri dell'Unione europea o altri interessi. Vi basti sapere che nel suo consiglio di amministrazione si trovano alcune realtà come la Goldman Sachs, di cui abbiamo già parlato, praticamente la Goldman Sachs è ubiquitaria, non si fa scappare nulla, dove si decide c'è, la Levi Strauss and Company, l'Alcoa, la Nike, la Carnegie Corporation, le fondazioni Rockefeller e Ford. Sostegno alla Brookings Institution arriva anche dalla fondazione Gates, dai Rockefeller, dal governo degli Emirati Arabi, dalla Bank of America, da Jacob e Nathaniel Rothschild, i soliti che ritornano, dalla Exxon, dalla Shell, dalla Lockheed Martin, dalla Westinghouse, dalla Glass of Smith Klein e dalla Boeing. Le multinazionali, farmaceutiche, militari, ma anche degli OGM, gruppi bancari, sono questi che decidono e imprimono la direzione. Quindi quando si parla di sistema dei poteri forti, in realtà è questo che si intende. La concentrazione nelle mani di pochissimi gruppi, di pochissimi in realtà, del potere effettivo di decidere della vita, e se mi permettete, visto anche il numero esponenziale dei suicidi che abbiamo visto in Italia, ma in Grecia, ma anche in altri paesi, decidono anche della morte dei cittadini. La partecipazione alla guerra, basta pensare all'autolesionismo italiano con la partecipazione alla guerra in Libia o nei confronti della Siria ora, non sappiamo veramente fare altro che fare un po' i papazzi, solo che anzi che utilizzano la plastica, utilizziamo una clava di roccia, di granito, da questo punto di vista. Chi e come decide? Si diceva prima giustamente, cerchiamo di capire se effettivamente questa partecipazione da parte dei cittadini effettiva e reale, se il potere, inteso come partecipazione, come decisione, come attività, è effettivamente distribuito o invece, come abbiamo appena detto, è concentrato nelle mani di pochissime realtà, non sono i Parlamenti a decidere, non lo sono a livello nazionale e non lo sono a livello europeo, ancor meno a livello europeo, dal momento che il Parlamento europeo sappiamo che ha prevalentemente un carattere consultivo, quindi non operativo, decisionale e a livello nazionale, citando il Drapound, i nostri politici sono i camerieri dei banchieri, ma non hanno nemmeno fatto la scuola alberghiera, si sono acconciati in qualche modo a servire al meglio gli interessi delle grandi elite finanziarie globali. Quindi chi decide e come decide? Oltre ai gruppi già citati ce ne sono altri, basta pensare al Council in Foreign Relations, con la struttura statunitense, ma anche con la struttura europea e come dire, sono un po' gli presenti di par condizio applicata a tutti gli effetti, perché dentro ci troviamo da Emma Bonino a D'Alema a Fini e quindi come dire, si raccoglie la rappresentanza politica dei vari schieramenti, come dire, il sistema cerca di vincere qualunque sia la posta in gioco, scommette su tutti i candidati perché sa che in un modo o nell'altro può controllare tutti gli schieramenti. Dietro al Council in Foreign Relations, struttura centrale negli Stati Uniti, vi invito ad andare sul sito a cercare i membri, c'è proprio un elenco, incredibilmente dal 2011 ad oggi, in un file che era originariamente di 4 pagine, sono storiche le prime 2 pagine iniziali, un po' quello che è successo anche con l'Acto Institute, di cui parleremo fa poco, e un po' come è successo anche con altri gruppi corporativi, di Stilo Bingerberg, spariscono dei file che prima erano fruibili. E adesso curiosamente cliccandoci su trovate solo un file che è pagina 3 e 4, non esiste la pagina 1 e 2. Quindi a livello di persone non è dato sapere fisicamente chi ne faccia parte, ma è dato conoscere quali sono i gruppi che sostengono queste realtà. E di nuovo, trovate le grandi multinazionali, già citate, trovate di nuovo i gruppi di potere, le rappresentanti del governo degli Stati Uniti di pochi altri governi, ma Israele, Francia, Germania, Inghilterra, ma pochissimi dei paesi che decidono oggettivamente per le sorti, perché poi lo scopo è dichiarato nero su bianco, a livello politico, militare, economico, finanziario, sociale, finanziario, ambientale. Decidono da tutti i punti di vista. Un inserimento? Certo. Ricordate una cosa importantissima che tutti, non i Presidenti, ma tutti i candidati alla Presidentità degli Stati Uniti sono usciti dal CFR. Erano tutti membri del CFR, chi era di destra e di destra e di destra e di sinistra, tutti i diritti. Pensate, e questa è una cosa curiosa, della quale sarebbe bene avere una qualche spiegazione, ma per ora non mi vado a sapere, perché le mie mail sono cadute chiaramente nel vuoto. Se guardate nei corporate members del Council of Foreign Relations degli Stati Uniti, trovate che ci sono prevalentemente delle multinazionali, però compaiono due banche. Una è una banca privata del Giappone e l'altra è Banca Italia. E uno dice perché? Come mai? Con che relazioni? Con che rapporto? Perché nessun'altra banca centrale a livello mondiale? Perché è solo la Banca Italia? Non posso esprimermi, non riesco a darvi la motivazione, però come diceva Andrea Otti, pensare male, vabbè. Un altro dei gruppi dove risiede il potere è quello che ha legato quel simbolo, con le tre frecce che si incrociano. La commissione trilaterale, suddivisa nel ramo giapponese, nel ramo statunitense, nel ramo europeo. Basta sapere che Mario Monti è stato eletto senatore a vita ed è stato nominato Presidente del Consiglio, quando ancora presideva il ramo europeo della trilaterale, che è un'altra organizzazione che lavora a porte chiuse e che decide per le politiche in tutte le varie declinazioni possibili e immaginabili e delle sorti quindi dei vari cittadini. Altrove l'avrebbero chiamato conflitto di interesse, per noi è stata la normalità, anzi la giustificazione ufficiale che è arrivata dalla fonte proprio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è che con l'anno nuovo, quindi all'inizio del 2012, Mario Monti ha dato le dimissioni da Presidente del ramo europeo della trilaterale. Anzi c'è la giustificazione che siccome è in merito i potenti lui riuscirà l'Italia a salvarsi. L'abbiamo visto. Un altro dei gruppi veramente importanti è questo gruppo dei 30, il gruppo 30, anche di questo si parla poco. La sua definizione è Consultative Group on International Economic and Monetary Affairs, quindi un gruppo consultivo sugli affari, sulle politiche monetarie, economiche e internazionali. Vi basti sapere che all'interno c'è un personaggio che si chiamava Tommaso Pablo Schioppa e che all'interno ci sono altri personaggi che risiedono a livello apicale nei vari governi, non solo europei, ma anche statunitensi, globali è il caso di dire. Anche questo, se cercate sul sito, ha come modalità di lavoro prediletta quella a porte chiuse. Noi subiamo le loro decisioni, però non è dato sapere che cosa venga deciso in questi ambiti. La stessa cosa succede a livello mediatico. Il potere dei media e intellettuali, qui ho citato l'Aspen Institute. L'Aspen Institute con sede ad Aspen, Stati Uniti, ma con duramazioni in vari paesi, tra cui anche l'Italia. Esiste l'Aspen Institute Italia. Ed anche qui è un'altra di quelle realtà che si occupa prevalentemente dei media, dell'informazione. Anzi, nel sito potrete leggere che si parla di armonizzazione delle informazioni, per quanto riguarda la geopolitica, l'economia, la finanza, la società e la cultura. Armonizzazione, so tanto di appiattimento, so tanto di veline fornite ufficialmente. Tant'è che l'edizione del TG1, dell'ora 20, del 9 gennaio del 2010, se non ricordo male, forse del 2009 però, apre con l'antizio ufficiale che finalmente la RAI ha aperto, la collaborazione ufficiale è con l'Aspen Institute. E uno dice, boh, sarà una notizia da dare? Che ci frega? Che cos'è questa cosa? Poi uno va a vedere e dice, oddio! Praticamente adesso ci arrivano le notizie confezionate direttamente a Medinium 6, che cosa si può dire e che cosa non si può dire. D'altra parte questo non ci deve sconvolgere molto, dal momento che ad esempio nella vicina Grecia, come ha fatto sapere l'ex ambasciatore greco in Canada, sono state dettate letteralmente delle norme, delle linee guida alle quali i giornalisti sono obbligati ad attenersi. Chi le viola viene in qualche modo avvicinato e abbordato da persone, dagli apparati dello Stato, di sicurezza dello Stato e convinti ad agire diversamente. Se no, succede come è accaduto all'inizio del novembre dell'anno scorso, quando un importante giornalista della principale TV greca ha passato il filmato in cui il primo ministro greco veniva affischiato e contestato, giorni dopo è stato licenziato in tronco, questo è quello che succede a livello di libertà dell'informazione. I media oggi sono di proprietà e se andiamo a controllare le proprietà risaliamo gli stessi gruppi familiari, alle stesse persone, agli stessi ambiti a cui facevo riferimento prima con gli altri gruppi, o sono asserviti comunque a quei poteri forti. Nella migliore delle ipotesi si parla di autocensura o allineamento rispetto al pensiero forte e dominante, cioè non bisogna disturbare il sistema, pena l'annientamento, adesso per uccidere dal punto di vista mediatico ci vuole poco, non bisogna anche spendere i soldi per comprare i proiettili o le armi, basta spegnere i microfoni, basta spegnere le videocamere, basta spegnere la voce, non si esiste più. Nella società attuale esiste solo su passi in televisione, una cosa vera fin tanto che passa in TV, se non passa in TV non esiste, basta, è semplicissimo annientare qualcuno. E poi c'è un'altra cosa grave, un pululare di intellettuali o teorici, spesso imposti dai media come esperti, sedicenti esperti o effettivamente plasmati all'interno di strutture economiche, finanziarie, quindi come dire, perfettamente allineate con il sistema imperante, o scelti dai partiti e quindi è chiaro che figure di questo tipo non possono che essere sostenitrici o parti integranti del sistema stesso. Non c'è altra possibilità, questo è quello che impone il sistema, questo è quello che impongono i poteri forti, per cui sembra essere l'unica realtà esistente. A proposito dell'Aspen Institute Italia, anche qui c'è la par condicio, perché dentro ci trovate da Lucia Annunziata a Dulberto Eco, da Tremonti, che è il Presidente dell'Aspen Institute Italia, a Monti, quindi dai 3 ai vari Monti, quindi 3 Monti Monti, ma ci trovate anche fedele con Salonieri e ci trovate vari personaggi delle casate principali in Italia, quindi organismi di informazione ci sono tutti, la RAI collabora ufficialmente, quindi trovate tutti i sistemi di informazione in un qualche modo allineati. Un suggerimento, andate sul sito di Aspen Institute Italia, cliccate in alto, c'è un menu su chi siamo oppure su di noi, non ricordo esattamente la voce, e arrivate alla voce membri o fellows, quindi chi sono gli amici, vi si apre una sfaginata di tutte le società, le imprese e le aziende che sostengono Aspen Institute Italia, è pauroso, perché ci sono tutti gli apparati di informazione, tutti i fornitori di telefonia e di comunicazione, oltre alle grandi multinazionali, quindi il controllo totale e oltre ovviamente, ma questo in un qualche modo viene da sé, i grandi gruppi bancari e finanziari, li trovate tutti. Allora, i fatti membri vanno vicino nel stesso cammino? O bordello? Sì, sì, questo è. E il bello è che giocano a farle vergini, ma si trovano all'interno di un bordello e chi ci rimette siamo noi. Il problema più grosso è proprio quello dell'informazione e adesso ci arrivo. I poteri forti hanno una potenza di fuoco che è mostruosa. Pensare di combattere il sistema dall'interno è, secondo me, un suicidio, perché si viene o silenziati o annientati in alcuni casi anche fisicamente. Un nome che è tutto lì per quanto riguarda l'Italia è ad esempio Aldo Moro, per cui molti hanno ipotizzato motivazioni diverse per la sua eliminazione, ma sappiate che aveva anche acconsentito alla stampa delle 500 lire della Repubblica Italiana. Era una moneta e l'aveva utilizzata proprio per lavorare verso la piena occupazione, per estingere una parte del debito. Ripeto, 500 lire della Repubblica Italiana. di una moneta, quindi che era pubblica e di proprietà dei cittadini italiani. E' come dire, esatto, in precedenza possiamo parlare di Kennedy, possiamo parlare di Lincoln, possiamo parlare di personaggi che avevano attribuito questa funzione al denaro. E toccare certi argomenti, a volte come dire, toccare certi fili si rischia di essere fulminati. Sì, come Daffi, esattamente, sì, esatto. No, un trucco c'è, un trucco c'è e poi, adesso ci arrivo subito perché in realtà poi sto arrivando già alla conclusione, la manipolazione continua che fanno sulle nostre menti ci porta ad essere massa, c'è una massificazione, dicevi giustamente prima, tu, siamo numeri da spremere, consumatori da sfruttare, schiavizzati, ridotti in schiavitù, cannibalizzati per molti aspetti e però se ne può uscire, anche se l'ostacolo principale è quello all'informazione. I cittadini che hanno un'informazione reale, vera, con dati di fatto oggettivi, non quelle confezionate, le informazioni confezionate dall'ASPEN o preparate dalle veline ufficiali, possono acquisire degli strumenti per potersi difendere e per poter dimostrare che esiste un altro sistema, perché dicevo, combattere questo dall'interno è molto autolesionista. Bisogna creare un altro sistema, un'altra realtà ed è possibile, se uno dice, ma guarda qui, hanno vinto l'oro, basta, no, io sto girando moltissimo, devo dire, in questi mesi e li tocco con mano, li vedo, li conosco, conosco i gruppi che si stanno organizzando nelle varie comunità, nelle varie realtà e stanno mettendo in piedi veramente un sistema diverso. Il problema è che sono tutti esempi scollegati fra di loro, isolati e volutamente tenuti isolati, in maniera tale che il divide tintera possa essere la parola d'ordine di un sistema che vuole allientare chi va al di fuori dello steccato. E quindi l'informazione, gli impegni da parte di ciascuno di noi, a non doversi per forza proclamare esperto o ad avere la paura di non essere esperto nel parlare con un'altra persona, cominciamo a confrontarci, a parlare delle cose che si sanno, a far circolare le informazioni, i link, i documenti che magari abbiamo, le pagine, le fotocopie che possiamo fare dei materiali che sono utili per questo percorso di presa di consapevolezza. E poi ci sono alcuni altri passaggi a mio avviso che possono essere fondamentali, a partire dall'eliminazione di ogni cordone umbilicale con chi ha già governato ed è complice di questo sistema, perché in una realtà piuttosto che in un'altra, insomma li abbiamo già visti e come dire, abbiamo anche già dato, non c'è destra, centro, sinistra che possa tenere e tutto ciò che sembrava in qualche modo trasformato, trasmutato, riciclato, recuperato, in realtà era la manifestazione dello stesso sistema di poteri forti che ci ha condotto fin qui oggi. le brave e ottime persone ci sono in tutti gli schieramenti partitici o politici, c'è chi agisce veramente in buona fede, al di là dell'attaccamento ideologico, affettivo magari con una parte piuttosto che con un'altra, ma il problema è che all'interno di questo sistema non hanno voce, non hanno potere, decidono i vertici e i vertici come si diceva prima, sono asserviti a questo sistema di poteri forti e quindi si cominci a togliere l'infa a questi partiti e chi è già governato, parafrasando Einstein, insomma non si possono risolvere i problemi con le cause che li hanno provocati fondamentalmente, quindi effettivamente non servono riforme, servono cambiamenti profondi. Un'altra cosa che andrebbe eliminata è chi l'opera in segreto, abbiamo visto finora che l'operana in segreto è caratteristico di chi fa parte dei poteri forti e anche a livello un pochino più territoriale, laddove come dire sotto forma di loggiati di varia specie, di varia coloritura, con vari stemmi, si nascondono comunque dei sistemi di potere per il controllo magari delle baronie a livello dell'università, dei vertici apicali all'interno degli ospedali, bancari locali, quindi è un sistema che non deve a parte della popolazione, perché di nuovo è una concentrazione del potere, non una distribuzione del potere, non una compartecipazione e quindi nulla che vedere con le massonerie, con i gruppi che lavorano in segreto e tantomeno con l'illecito, con la criminalità, questo va un po' da sé. E poi servirebbe una partecipazione da parte di questa parte sana del paese, dei cittadini, senza divisioni e tifoserie, se io continuo a vedere nell'altro un nemico solo perché magari su 10 punti siamo d'accordo su 9 o su 8, ma io riesco a concentrare tutta la mia attenzione su quel punto, su quei due punti sui quali non siamo d'accordo e considero l'altro un nemico, ho già fatto quello che pretende il sistema da me, ho già perso, ho perso, nel momento in cui attacco frontalmente, in cui penso che non lo pensi come me, con me, io con te ho chiuso, basta, ho rinforzato il sistema, gli ho portato nuova linfa. Una cosa che è importante, qui trovo veramente molto interessante, fa parte anche un po' della proposta alla quale il mio movimento sta partecipando, riportare il potere nel senso buono dell'accezione, significa partecipazione, significa condivisione, significa gestione della cosa pubblica, significa gestione della nostra vita, del nostro futuro a livello della comunità, il più vicino a noi possibile a livello di decisione, di partecipazione, in tutti gli aspetti, dal lavoro all'ambiente, alle relazioni interpersonali, ai vari nuclei familiari, a riappropriarci anche delle relazioni di quel benessere interno lordo che invece abbiamo sacrificato in virtù del PIL prodotto interno lordo, uno dei famosi parametri che ci hanno imposto anche per la permanenza a livello delle strutture europee. E poi, e concludo, condividere l'impegno con tutti i cittadini che appunto rappresentano le forze sane, la parte pulita di questo Paese, rappresentano la speranza, rappresentano il vero futuro delle varie comunità e quindi del Paese, delle aree e nei conti del mondo intero. Ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, ogni cittadino italiano senza distinzione di classe, sesso, fede, dovrebbe unirsi agli altri cittadini per decidere le sorti della propria comunità e del proprio Paese, per quello che non avrà la propria distribuzione del potere. Lo condivido pienamente, ciascuno di noi dovrebbe essere compartecipe, senza sentirsi in qualche modo penalizzato, inferiore, timoroso, oppresso, schiacciato, terrorizzato da un sistema che non vuole altro che farci sentire privi di valore. Invece ciascuna persona, ciascun individuo rappresenta il valore massimo in sé e in relazione con gli altri componenti della propria comunità. Cominciamo a lavorare da qui e avremo veramente applicato, realizzato nel concreto, una grandissima e profonda rivoluzione. Ecco, io lo seguo, ci sarà una manifestazione a Milano, ci siamo, ci siamo. Io appunto quando sento parlare Monia Benini, e anche Fernando Rossi devo dire che non ha ancora parlato, ma l'altra volta l'ho ascoltato per parecchio tempo, non posso altro che trovare una condivisione totale, perché mi sembra che quello che dici non ha colore ideologico, ma è radicato nel senso comune che fa parte di tutti gli uomini. Però quello che io apprezzo tantissimo è proprio che oltre ai principi generali poi bisogna scendere nel concreto, individuale esattamente le cose come stanno, criticare questo apparato che quando tu descrivevi mi veniva in mente un po' l'Unione Sovietica, cioè nel senso un sistema tipo Unione Sovietica dove c'è il polituro che decide giusto dall'alto. E quindi mi veniva in mente anche quell'altro libro che è un bello, che Hilary Bello aveva scritto nel 1930, Lo Stato Servile, in cui anche lì profeticamente aveva dipinto il nostro futuro esattamente come può essere realizzato, uno Stato Servile, una minoranza di persone che detiene il potere reale e quindi decide della qualità della vita della maggior parte degli altri e una maggioranza assoluta di persone ridotte a uno Stato Servile. Cioè come se noi ritornassimo indietro nella storia all'età, diciamo, all'età classica in cui c'erano i segreti, no, prima ancora, cioè nell'età classica in cui c'erano gli schiavi che lavoravano per qualcun altro. Noi oggi non lavoriamo, noi sappiamo di rispondere. E infatti se il sistema è in pro, poi alla fine è una pina che anche per gli schiavi non ci sono più neanche quelle briciole. Però ecco no, davvero non c'è una condivisione totale. Non so se Fernando Rossi vuole aggiungere qualcosa, sentiamo una domanda. Magari se c'è una domanda e poi lascio lui allora. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Paola Severino che all'ultimo festival del giornalismo noi saremo già al 76esimo posto nel mondo per la libertà di informazione, Paola Severino non eletta, ma anche lei parte di un governo nominato da Massoni, aveva detto effettivamente l'emergenza in Italia è mettere un controllo all'informazione troppo selvaggia, quindi questo si legge in realtà come un voler controllare di più proprio la libertà di informazione, c'è un libro di Franco Bernabè che è tra le tantissime cariche Presidente europeo della Rothschild Europa, che è una fondazione che è in 4 o 5 di quegli istituti che sono stati mostrati, oltre a essere il patron della Telecom ovviamente, che ha scritto un libro che si intitola Libertà Vigilata, nel quale dice che è necessario arrivare alla monetarizzazione della consultazione di alcune pagine Internet per poterne controllare l'accesso e per poter istituire la responsabilità da parte di chi apre determinate pagine Internet delle informazioni che vengono fatte passare per le sue pagine, quindi sostanzialmente si vuole chiudere l'ossigeno a Internet, queste informazioni circolano quasi solamente per Internet, se non per il buon cuore di persone come Monia Benini che poi scrivono anche i libri, allora è possibile acquistare il libro, ma purtroppo in biblioteca non si trovano molto spesso questi testi ed è possibile acquistarli e non li trovi sul primo scaffale o sulla vetrina di una libreria, è necessario andare e ricordare che esiste anche qualche altra casa editrice a parte le solite e che pubblica queste informazioni. Si vuole chiudere l'ossigeno anche a questo, allora cosa bisogna fare? Prima di tutto informare noi stessi, poi cercare di muoverci, di darci una mossa, anche perché se gli auspici, questi ultimi due auspici che ho nominato dovessero compiersi, sarà davvero dura anche riuscire a rendere noto agli altri quello che sta succedendo, d'altra parte è incoraggiante sapere che quando si conoscono questi contenuti, se uno non è un mazzone e non è già quindi volontariamente indischiato in questi progetti, non può che pentirsi di dare del complottista a chi dice queste cose, a me è successo ultimamente, ecco poi la domanda che mi viene da rivolgere, cosa rispondere quando il giornalista di turno in una trasmissione radio o in un, come è successo al sottoscritto, in un'altra occasione ti interrompe a metà discorso e ti dice, ah sì ho capito, siete i complottisti che ritengono che ci sia in realtà un piano per schiarizzare le popolazioni mondiali attraverso il debito. Come se ne esce se non dicendo che chi ti accusa di questo evidentemente, se si vuole credere alla buona fede, è disinformato e invevuto di quel relais salvavita che il sistema ha creato all'interno di se stesso, cioè dare del matto a chi dice solamente la verità. Senza supervi intellettuali. In questo caso si trattava di una radio che dovrebbe essere anche una radio abbastanza libera e controinformativa, è Radio Onda d'urto di Brescia, quando io ho nominato, finché si parlava per esempio di manifestare contro gli sfratti a difesa della proprietà della casa e del diritto alla casa di ognuno, si era perfettamente d'accordo e io sono per là il diritto di cittadinanza ci mancherebbe e i mutui delle case che non vengono pagati e quindi i sfratti in realtà sono dei prelievi forzosi del sistema bancario nei confronti dei poveri mutuattari disperati che non riescono a pagarsi. Su questo si andava d'accordo, quando io ho cercato di spostare la ficella un po' più in là, andare all'origine del problema, allora scoprire che questa è una macro truffa macroeconomica che funziona a livello globale, non è solo responsabile Berlusconi di turno, ma qui corresponsabile sicuramente, ma non è purtroppo l'ultimo responsabile, altrimenti basterebbe aspettare il suo epilogo anagrafico e quindi ho nominato i vari monti Papademus e gli intrighi che ci sono, ma soprattutto gli intrecci de facto, perché basta approfondire e scoprire questi apparentamenti così stretti e sospetti per dover aprire gli occhi e nel dire questo sono stato interrotto poi a metà discorso quasi e mi è stato detto sì, abbiamo capito questa è la tesi del complotismo, noi non siamo d'accordo, non siamo qui a triscerarla fino in fondo, ma riteniamo che sia il sistema capitalistico storico classico che si combatte solo con la lotta in piazza per sì, però ci vogliamo capire, se chi ti dà gli ordini è nella Goldman Sachs, è chiaro che tu questa cosa non la vedrai mai fino in fondo, mi viene in mente l'articolo sul Fatto Quotidiano di Gianroberto Casaleggio di settimana scorsa, un'intervista nella quale lui sosteneva che si uscirà dalla situazione di crisi mondiale attraverso una guerra termonucleare, sembrava vaneggiarsi e poi finalmente tutti voteremo in Internet per un governo unico mondiale, questa sarebbe la soluzione e l'ha detto Casaleggio che ha fondato il Movimento 5 Stelle che dovrebbe liberarsi… Ma se non sono una guerra termonucleare fatta da un'unica storia? Infatti lui ha attentamente parlato di depopulation, la riduzione del numero della popolazione e finalmente respireremo radiazioni evidentemente e potremo votare, è un'intervista che è sul Fatto Quotidiano dove auspica la cancellazione di tutte le ideologie politiche, dei credo religiosi, la fondazione di una umanità unica sotto un governo unico. Questo è il vertice del Movimento 5 Stelle che si presenta come riformatore, che spazza via la classe politica di ladroni, però è governato al suo vertice da questi auspici. Io ho conosciuto dei grillini, dei grillini non sono così folli, probabilmente sono già predisposti ad aprire gli occhi sulla realtà, tuttavia dovrebbero evidentemente leggere le interviste di chi ha fondato il loro movimento e interrogarsi sul perché non vengono mai nominati questi poteri forti, ma ci si rivolge solo ai vari Fiorano della politichetta italiana, ma non si va a nominare la BP, la Goldman Sachs, la JP Morgan, la Morgan Style e la UBS, queste ultime 4 hanno il 70% del debito speculativo mondiale, o meglio sono i creditori del 70% del debito speculativo mondiale, 4 famiglie, 4 banche private, evidentemente c'è qualcosa che non va. Queste cose perché non vengono dette, cosa rispondete quando vi danno dei complottisti? Questo sono curioso perché a me ormai ci ho fatto il callo, sono abituato a sentirmi dare dei complottisti. Ma già è un po' lui, è una domanda retorica, se non è un po' lui, è un po' lui, è un po' lui, è un po' lui. perché anche molti movimenti rivoluzionari a destra o a sinistra in Italia sono di proprietà di quei signori lì. E allora si capisce un po' come funziona il meccanismo. Come diceva Monia, serve per tenere divisa la gente, in più ci sono dei comportamenti. La destra ha alcune cose che non può dire e la sinistra ha alcune cose che non può dire. Se lui dice signorazio, è monestra, la sinistra, questa è roba di destra. La monestra, signorazio, la patria, è roba della destra. Quegli altri, se tu dici il lavoro, gli sciopperi, no, era un malerassistico, no, non si può. E quando invece sono cose che riguardano tutti gli italiani. Ma la questione che lavora per noi è che è davvero folle questo sistema. Cioè ci sono proprio dei pazzi alla guida di questo sistema. Adesso non mi ricordo la citazione, comunque il concetto è, in un mondo che è finito, è quello che è. Ci sono i minerali che ci sono, c'è il petrolio che c'è, e c'è quella sciolina di ossigeno in cui noi viviamo attorno a questo pianeta, che è quella che è. In questa situazione, un sistema che ha alla sua base lo sviluppo continuo e progressivo, la definizione è o è un idiota o è un economista, uno che sostiene queste cose qua. Perché non è possibile. Quindi tutto il sistema si regge su una cosa che non è credibile, che non è vera, matematicamente, fisicamente. E' solo che loro vanno per quella strada, perché la concentrazione del potere finanziario, la proprietà delle manifatture, di produzione, non gli serve per produrre ricchezza. Perché quella se la producono loro, loro possono stamparsi il denaro finché vogliono vivere, non è il problema che hanno. E' una sovrastruttura ormai che gli serve solo per controllare la gente, per spostare l'Alcova, la Sardegna, metterla in Argentina, spostare la tal roba dall'Australia, metterla nel Gabon. Perché è un modo per controllare le popolazioni e per avere il pianeta piegato ai loro piedi. Non devono esistere dei contropoteri. E quindi c'è qualcuno che ci vuole speculare sulla crisi dell'Euro, che vuole difenderlo come strumento per premere gli stati, ma c'è anche qualcuno che vuole far saltare anche l'ipotesi di un'Europa che possa davvero federarsi e diventare un attore politico, sociale, economico, a livello internazionale. E che magari sfugga al controllo di Israele e Stati Uniti ed apre rapporti con i famosi Brick, con l'Iran, con altri paesi. E cioè sfugga a quello che è il disegno di un controllo globale. Bisogna andarci dentro e capire, ma quello che interessa a noi è sapere che loro sono fortissimi. Però noi abbiamo capito come funziona il sistema e sappiamo che non se ne verrà fuori. Che governi Bersani, che governi Monti, che governi Berlusconi, adesso bisognerà tirar fuori degli altri miliardi per il MES, per l'ERS e via dicendo. Adesso parlano già di un circa il per cento di aumento delle tasse, di aumento dell'Iran, non ne possono venire fuori perché il sistema è fatto in modo per andare a prendere tutte le possibilità di tassazione, le risorse, i patrimoni pubblici degli stati. Quello è il disegno. Quindi fuori non ne verranno e il popolo continuerà a soffrire in Italia come da altre patte. In Grecia hanno sperimentato fin dove si può subire, a Cipro hanno fatto un altro passo avanti adesso. Quindi loro continuano sempre a vedere fin dove la famosa rana, che se la butti nell'acqua bollente salta via, ma se la metti nell'acqua fredda e cominci a scaldare piano piano, quella te la fai l'essa che neanche reagisce e si lascia l'essata. Quindi loro stanno vedendo cos'è che possono togliere a un essere umano con il loro potere. E fin dove la politica si può sostenerli. Allora noi in questo quadro abbiamo da far circolare delle verità il più possibile. Io non credo che loro siano contro Internet, perché se pensiamo a Facebook e tutta una serie di strumenti, la stanno usando più loro che noi. Nel senso che intanto raccolgono tutti i dati, tutte le informazioni delle persone che sul tal tema sono sensibili, che sono disposti a fare qualcosa, che vorrebbero fare qualcosa, e loro incrociano tutti gli altri elementi e conoscono di noi forse più di quello che sappiamo noi, perché poi fanno guardare quello che scriviamo, quando lo scriviamo, che ora lo scriviamo, come lo scriviamo, da degli esperti, noi qui siamo 10-12 persone, loro hanno migliaia di persone che studiano il comportamento della nostra testa, dei nostri gesti, delle cose che ci... Perfetto, perfetto. Quindi loro intanto lo strumento per tenersi controllati, oltre a registrazioni telefoniche e quant'altro, e poi ti mettono in un recinto. Tu puoi sfogarti finché vuoi, puoi bestemmiare contro Monti, contro Napolitano, contro chi vuoi te. Sei lì, sei lì dentro, stai lì, alla sera ti sembra di aver fatto rivoluzione, vai a letto, il giorno dopo il mondo è quello che era prima, e avanti così, vai a un evento, vai a un evento, ma siamo a Bergamo, 200 che lo dicono, partecipa, partecipa, poi... Perché è un mondo irreale, è un mondo virtuale, è un non-luogo, serve più a loro che a noi. Quindi non credo che faranno fuori internet. E però, ovviamente, c'è chi dice, ci sono milioni di persone gratuitamente, se le facciamo pagare, intanto sono soldi che incassiamo, quello è il primo ragionamento che fanno. E il secondo è che magari così riescono a filtrare di più, a evitare che circolino anche le informazioni, perché una buona informazione in mezzo a mille informazioni non buone, fai fatica a farla passare. Anche perché loro istruiscono delle persone, a volte istruiscono loro, e a volte sono ignoranti per conto proprio, e fanno circolare, convinte di spaccare il mondo, ingigantiscono le robe, o inventano delle bugie, e le mettono nella stessa pagina dove prima c'erano delle verità, dopo diventa la pagina delle bugie. Ad esempio sulla Grecia c'è un personaggio che si è divertito a dire delle robe non vere, a ingigantirle, dopodiché i giornali ufficiali hanno avuto un gioco facile per dire di lì vengono delle bugie. Finito. E quindi, quando tu parli di una roba, loro ti infilano i trovi, ti infilano le persone, e questo qui è un dato, non è che siamo complottisti, la stessa Unione Europea ha già selezionato le persone che dovranno dare battaglia nei blog, nelle pagine, a tutti quelli che mettono in discussione l'euro e l'Europa, ci sono le persone pagate per mettere lì la calugna su chi ha fatto quell'articolo, per dimostrare delle cose diverse, per mettere dentro del zanio, sono pagati. Israele, e non sappiamo del Ministero dell'Informazione, è addirittura il Ministero del Commercio, ma 170 persone pagate dalla mattina alla sera per stare nei blog e nei pagine internet in Europa. Quindi voi capite che è uno strumentino che lo usano più gli altri di quanto riusciamo a usarlo noi, però se ce la facciamo a mettere insieme queste realtà che diceva Moni e a collegarle tra di loro, allora sì che internet ci servirebbe e non avremmo bisogno né dei giornali né delle televisioni perché potremmo produrre materiali, essere garantiti dal fatto che passano tra queste istanze locali. E quindi se noi ce la facciamo a fare senza i soldi delle banche e senza i giornali delle banche, della grande finanza, e senza delegare questi partiti che loro ci sono già comprati tutti, ecco che cominciamo a fare davvero la rivoluzione. Andiamo a costruire qualche cosa dove il popolo è davvero partecipare e si gestisce. E' una materia di cui non sono molto competente. se mi racconta, dove sta? A sbagliare l'interlocutore. Io stimo tutte le persone che hanno un credo, una fede, e pensano che Dio li abbia creati a loro immagine e somiglianza e che nella vita debbano tendere a questo supremo essere perfetto. Quindi giusto è un essere giusto e della verità. Chi spende la propria vita per avvicinarsi a questa sua idea di Dio, della giustizia e della verità, mi va benissimo e sono sicuro che nella mia vita l'ho già incontrato e continuerò a incontrarlo. Altre cose della religione e della fede non mi interessano molto finora. insomma adesso si possono anche aspettare i fatti, perché anche il Presidente statunitense di nero dovrebbe essere una grande cosa. Ma forse Domenico dobbiamo aspettare quando farà qualche incinfica sulle questioni economico-sociale. Allora vi considero che si vedrà perché si posiziona a prendere questi diretti. Io credo che bisognerà vedere cosa fa in un breve periodo sullo York, sullo York. Se il Presidente fa qualcosa vuol dire qualcosa, se non fa niente vuol dire che continua. Ma se fa, sarebbe bene evitare il castello. Ripartendo da quello che diceva Bernardo sulla situazione che cosa fa, diciamo, ha trattato i massimi sistemi, una realtà complessa cosa sta succedendo, come fare per modificare la strategia che utilizzano, come fronteggiare. Abbiamo trattato dei temi molto molto complessi, diciamo, e grossi. A me mi aveva colpito quello che aveva detto John Medailla, che è un sindaco, che verrà qua al 23, che mi ha detto la prima cosa che potete fare, diciamo, visto che per noi c'è una follia e sono assolutamente d'accordo su questa definizione. Una follia o un cancro, un impattimento cellulare, diciamo, facendo un paragone alla, io sono medico, quindi alla realtà corporea. La situazione naturale come si può su un tumore nell'organismo, questa produzione è sempre più veloce che porta poi allo sfinimento e al crollo dell'organismo e del corpo nella sua complessità. Però Medailla diceva, incominciate a partire dalle, se c'è una follia, voi rispondete con la ragionevolezza, se c'è in realtà l'utopia, un ruolo che non esiste perché si autodistrugge, rispondete con qualcosa di concreto che è legato diciamo al reale e quindi incominciate a partire dalla famiglia, incominciate a, incominciate, cioè dove, lui dice, dove c'è un territorio in cui non c'è l'individuo isolato, ma ci sono delle famiglie vive che tra loro si contattano, c'è un legame diciamo di solidarietà reciproca, tutto sommato diciamo, avete diciamo quel che vi basta, diciamo, avete il necessario diciamo per sopravvivere, cioè come primo passo avete già, ma se voi avete una famiglia che è una famiglia diciamo viva, diciamo vivente e queste famiglie si mettono in contatto tra di loro, voi create un nucleo diciamo di resistenza diciamo a tutto ciò che è, come dire, utopico e quindi folle che riesce diciamo a far fronte a questa situazione di follia collettiva, quindi questo è il primo punto diciamo da cui partire, cioè creare una rete di famiglie solidificarle, rinforzarle, dargli vigore, dargli anche consapevolezza diciamo del valore che hanno questi luoghi naturali che sono a disposizione di tutti e che stanno per essere diciamo distrutti in questo sistema, incominciate da lì e poi incominciate da tutte le sacche di resistenza che ci sono, io penso al mondo delle cooperative per esempio, il mondo delle cooperative, del no profit cioè un mondo di persone che fanno un lavoro non lo fanno per motivi diciamo lo fanno perché ci credono io personalmente ne conosco centinaia di queste persone qua di persone anch'io di cooperative che davvero c'erano no profit e conosco poche guarda io ti posso dire che c'è una cooperativa in Francia che si chiama Mondragon che è passata scusa in Spagna che è passata nel giro di 15-20 anni è passata da 4.000 a 86.000 iscritti però ha dei principi distributisti cioè di ragionevolezza la radice cioè l'85% delle persone che lavorano sono proprietari dei mezzi di produzione di tutte queste varie cooperative come io ho 50 anni e conosco le cooperative rossi si si no 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 ma ci mancherebbe ci sono quelle vere e quelle false e lo stipendio massimo all'interno di questo gruppo di cooperative non può essere 10 volte superiore a quello minimo lì l'operaio ha una paga che è superiore diciamo rispetto a quella dell'operaio medio non solo ma l'operaio chi lavora partecipa essendo proprietario a tutte le varie fasi sia della formazione sia anche della politica diciamo economica e questi qui sono stati in grado di adattarsi ai cambiamenti economici in maniera molto più agile che non le grandi corporation le grandi industrie che sono rette secondo altri meccanismi dirigistici che sono inefficienti diciamo alla fine oltre che non equi e ingiusti quindi noi abbiamo già senza andare a inventarsi delle cose futuriste eccetera ci sono già questi semi di ragionevolezza che vanno vanno aiutati vanno rinforzati diciamo nella loro consapevolezza e bisogna partire da queste sacche di resistenza che già esistono però bisogna partire oltre con una pass d'instruence cioè fargli vedere come giustamente state facendo voi a dire che qui la situazione è folle perché la situazione è folle dal punto di vista monetario dal punto di vista economico dargli anche una direzione ben chiara che non sia un'altra utopia ma che sia un qualcosa radicata nella realtà nell'esperienza nei desideri reali diciamo che le persone sentono e percepiscono dentro di sé perché c'è una strada possibile ora questa strada adesso di ragionevolezza che indica il distributismo a me sembra le tracce di fondo chiaramente che abbiamo descritto prima che sia una proposta ragionevole una proposta attuabile una proposta alla fine diciamo concreta perché la gente ha bisogno della pass densa ma ha bisogno anche della pass contro ha bisogno di sapere in che direzione si sta andando di avere cioè che questi desideri di fondo che poi sono i desideri valvilari che tutti noi abbiamo di avere una vita normale che abbiamo detto prima questi si possono concretamente realizzare perché storicamente si stanno già realizzando in alcune parti del mondo si sono realizzati in passato e quindi non stiamo parlando di utopie ma stiamo parlando di qualcosa radicato nella reale di utopie di utopie di utopie ce ne sono altri che è di utopie dico che di utopie di utopie che abbiamo reso che il 50% della responsabilità di tutto quello che abbiamo visto è no cioè dobbiamo smetterla di sentirci vittime perché la vittima è la parte fondamentale della schiavitù esattamente come il carnefice quindi sentendo queste cose è legittimo provare un senso prima di rabbia aggressività e poi di frustrazione per impotenza inevitabile cioè io cosa posso fare la solita domanda che ci si sente fare però è ora anche di compiere un passo ulteriore e dire io non sono la vittima sacrificale se non con il mio consenso è addirittura responsabile anche chi queste cose non le sa perché non si è mai preso la briga di andare ad approfondirle io le ho scoperte grazie al fatto che ho deciso di vedere brutte verità c'è una resistenza secondo me inconscia che fa sì che uno queste cose non le voglia sentire e non le arriverà a sentire quando incidentalmente succede che incappa in qualcuno che le dice gli dava il complottista perché non vuoi e addirittura di solito succede che magari qualcuno esatto esatto noi dobbiamo andare dallo studente che vuole avere un futuro dall'artigiano che gli sta chiudendo la ditta dal lavoratore dipendente che fa una ditta che non gratifica granché perché appena muove un ditto arriva il superiore e gli dice e dargli delle risposte concrete che realizzino i loro bisogni umani concreti che secondo me non sono cioè noi siamo qua un gruppo limitato giusto che acquisiamo queste informazioni ma la grande massa diciamo della popolazione in questo momento sta soffrendo e non ha diciamo delle risposte concrete ora bisogna scendere calarsi nel reale e dire benissimo noi vogliamo far sì che la disoccupazione finisca perché se lo Stato stampa la moneta in sei mesi come hanno fatto storicamente in varie fasi nel mondo c'è la piena occupazione e non è un'utopia ma è andato di fatto primo quindi ci sono le strade da rifare che sono tutte ci sono da una parte le strade da rifare dall'altra le imprese edili che sono disoccupate cioè se non ne fu lì a questa qua cioè non lo so ci sono i disoccupati da una parte e la gente che non può andare al supermercato diciamo è la produzione diciamo che tecnologicamente potremmo produrre per tutti e nessuno può acquistare cioè delle cose assolutamente folli ora bisogna intercettare secondo me i bisogni reali della gente perché come hanno fatto tutti i modi che si sconde secondo me non è solo tanto dire se vuoi lavoro proprio non è solo perché questo l'ha fatto anche tutti i bambini pensano perciò di sì di passare davanti invece è proprio dire no guardate è molto lavoro per scoprire purtroppo il senato è debito e l'è culpa questo lo devi comprendere questa si chiama la coscienza allargata quando c'è la presa di coscienza e l'è successo tante cose pensano alla presa di coscienza e poi in un'epoca successiva rispetto a quella che c'erete terminate parlare che erano diversi stati perché sono diventate sostanzialmente inaccessibili perché è modificato nel senso comune che è l'avvocata che parte la coscienza su qualcosa ed è possibile se in questo caso se in questo caso se in questo caso avessi un accordo è possibile perché le magie del controllo stanno diventando diventando trattamente assistianti e invece è necessario che l'unità che non è molto prossimo prima ancora di diventare la visione di lavorare la scelta ma se me l'hanno chiedi perché è successo questo perché la gente è cominciato a riflettere no perché la gente è disoccupata perché gli studenti non hanno futuro per questo che è successo perché se no nessuno si poserebbe queste domande ma scende in piazza perché la gente scende in piazza per ragioni naturali perché chi vuole avere il terzo figlio non può avere il terzo figlio perché non ha abbastanza soldi perché moglie e marito lavorano in due e non hanno il tempo per mandarsi a fare le vacanze per queste sono le ragioni per cui la gente scende in piazza no no e che non si si assentì più la soluzione a parte perché a parte non sono obbligature quindi quello che è il tema per esempio dell'assemblea sovranità popolare che a me interessa molto perché chiama proprio la comunità a diventare attiva a diventare parte attiva è proprio no no finisco se manca se manca la presa del controllo della politica da parte della comunità che finalmente diventa parte attiva e si interessa attivando tu dici ma lo dobbiamo chiedere anche alla casalinga secondo e proporzionatamente alle sue possibilità sì è necessario perché altrimenti da un sistema come quello che abbiamo visto fino adesso che è quello del controllo dall'alto purtroppo arriva se non prima dopo i grandi potentati si comprano esattamente quelli che hanno che prendono le decisioni non serve la maggioranza serve il numero sufficiente c'è un numero sufficiente che è inferiore alla maggioranza non ha tempo la gente lavora la famiglia la gente che ha i interessi e i diversificati chi si interessa del bene comune realisticamente è sempre stato così ma è anche giusto perché vediamo cosa succederebbe se tutti si occupati del bene comune si può fare che il buon lavoro diciamo ma se stiamo scherzando tutti si occupano del bene comune Matteo tutti si occupano del bene comune tutti si devono occupare del bene comune tutti devono diventare coscienze se io sono un medico se io sono uno psichiatra come faccio di occupare del bene comune del bene comune anche se non sono i miei colleghi io potrò occupare del bene comune della psichiatria del bene comune e allora cosa ci fai qua e allora perché non sei cura rimanato se io sono i miei colleghi se io sono i miei colleghi perché chi l'ha detto non si chiamano ma hai capito cioè dobbiamo fare la testa perché la testa se no secondo me se non non si apprezzano i bisogni reali della prezze scusa e non si può neanche scusare la testa e se non ci interessano ma perché mai il panettiere che si alza dal mattino si dice di lavorare e aspettare un mattino non può sapere queste cose perché mai non può sapere queste cose il panettiere e invece è arrivato il momento che il panettiere si spesi scusate sono parlati tutti noi altri che abbiamo anche noi qualcosa da dire magari no eh poter non so allora avevo alcune posso parlare direttamente a loro mi sto nervosendo togliere quella roba qua sta ora una questione sul sui movimenti che dovrebbero in qualche modo contrastare il pensiero unico che però a mio modo di vedere rischiano anche essi al loro interno di essere etorodiretti da quegli stessi poteri forti che magari emettono che ci sono delle minoranze che non sono né terrorizzate che nemmeno hanno il sonno della ragione no per esempio mi vengono in mente due gabbie del pensiero mostruosamente confezionate dal sistema per rendere impotenti dal loro interno questi potenziali movimenti mi viene in mente la gabbia del pensiero dell'antitascismo e la gabbia del pensiero dell'anticomunismo prima domanda seconda domanda è vero che sono sempre le minoranze mi riallaccio a quello che dice Matteo che percepiscono che c'è un pensiero unico da demolire se si vuole trasformare il reale e renderlo più conforme alla giustizia sociale al bene comune però l'idea che io debba tollerare che lo studente in difficoltà che il lavoratore in difficoltà se ne spie sul divano e io rivoluzionare mi vado a preparare la pappa non mi piace molto deve essere qua anche lui a 18.30 in Caversazia a sentire Moni a Benini e Fernando Rossi e Matteo Mazzariolo ho capito quindi attenzione Matteo non è che io che sono nel micro devo andare a prendere le sofferenze di questi divano che sta male e confezionare la pappa devono collaborare anche loro lo studente in difficoltà il panettiero in difficoltà l'artigiano che sta fallendo anche a livello sociologico bisogna che si dia una svegliata pure loro che non si lamentino sempre poi nel 75% di casi vanno comunque a votare il 24 il 25 febbraio se no mi dà l'idea che loro soffrono di pancia ma non riescono a elevare al cervello perché stanno male di pancia e così come il giardiniere operaio Boni o l'oxichiatra Mazzariolo fanno lo sforzo alle 18.30 per essere quindi con altre persone di cui non conosco i nomi di tutti purtroppo lo devono fare anche loro altrimenti meritano un rocci perché li sodomizza 24 su 24 questa è una battuta però riesco a rendere l'idea siccome sociologicamente questi movimenti devono formarsi senza pretendere che sia una gran parte che vogliono la pappa pronta perché hanno il diritto di star male ma non di ragionare e ci sia la minoranza che invece deve rarsi da fare per tutti poi una terza cosa io lavoro da 17 anni in una cooperativa sociale sono d'accordo con quello che dice Matteo la cooperativa sociale la cooperazione sociale è forse l'unica isola all'interno del mondo produttivo che antepone ha i bisogni della persona a quelli del profitto però attenzione una cooperativa funziona al di fuori dal sistema capitalista e lo sanno anche chi fa cooperazione da decine d'anni altrimenti fa la stessa cosa che fa una suora all'interno di una casa di appuntamenti una cooperativa e io non faccio differenza tra rosse verdi e bianche perché se no si finisce per essere una lotta tra polli come quelli di Renzo e di Manzoni a memoria le cooperative sono destinate all'impotenza e al fallimento nel loro progetto di mettere veramente al centro la persona se devono vivere anch'essi all'interno del solito rapporto di riproduzione capitalistica perché devono partecipare anche loro agli appalti come tutti gli altri capitalisti classici quindi la prima cosa che devono fare i cooperatori sociali mi ci metto dentro anch'io che 17 anni e faccio questo mestiere e vivo questa contraddizione la vivo alla luce del sole è che devo conciliare l'anticapitalismo del tempo libero con la pretesa di mettere al centro la persona nel tempo pieno delle otto ore di operare recuperativo già dire che faccio però bisogna uscire dal capitalismo eh questo è indispensabile bisogna uscire dalla proprietà privata dei mezzi di produzione poi una quarta e ultima cosa vorrei la risposta sulle due gabbe del pensiero dell'antifascismo e dell'anticomunismo il quadro di Munch quello del terrore il quadro della gatta addormentata mi sembra adesso non mi ricordo chi sia il pittore lì ah una foto brava quelle due icone che rappresentano chi si terrorizza e chi non ha voglia di capire che la realtà che lo circonda sono un po' gli emblemi della mia sorella di mio cugino di mio zio persone magari a cui al mio amico della mia compagnia storica con cui ci riesco da vent'anni persone che magari non hanno intelletto inferiore al mio ma difettano di volontà cioè non passano dall'intelletto alla ragione cioè non passano dall'usare l'intelligenza per essere dei buoni medici buoni chimici buoni giardinieri ad avere invece la ragione che mette in relazione il mio soggetto con la totalità che mi circonda e allora quella totalità comprende Rochel Rockefeller eccetera eccetera domanda come costringere questo mio fratello questa mia sorella questo mio cugino questo mio amico che pure voglio un bene all'anima ad interagire con la totalità e a non invece gestire la propria intelligenza solo in termini tecnico come vuole il capitalismo ecco queste sono due domande annesse alle due riflessioni prima poi mi parete è scusate concordo con le piacere su anche il problema che si dice questo è uno dei primi non il primo elemento in Italia che viene utilizzato per tenere diviso la gente per impedire che il popolo guardi in avanti cioè tenerlo con la testa girata indietro serve da evitare di guardare in avanti l'altro elemento invece è interessantissimo io non condivido una parte di quello che diceva l'amico Mazzarriolo nel senso che ritengo che sarebbe tempo perso e uno sforzo già fatto nei decenni precedenti quello di andare a convincere le persone a svegliarle non abbiamo tempo l'acqua sta salendo in una velocità troppo grande noi dobbiamo unire quelli che hanno capito chi non ha capito si arrangiano si arrangiano la rivoluzione la fanno le persone che hanno capito quelli che hanno capito cosa vuol dire la moneta a debito e perché se dobbiamo usarla noi deve essere un banchiere che ce la dà in prestito chi ha capito questo? Avanti chi ha capito che l'Italia come ha scritto Giacomo Siga fa il ministro degli esteri degli interni su Selka Stati Uniti eccetera eccetera chi ha capito che non abbiamo politica estera non c'è un paese con i pantaloni lunghi che faccia troppo interesse e che guardia la pace nel mondo chi capisce e questo avanti il resto lo discutono sono persone libere con il buon senso che diceva lui troveranno le soluzioni quando questa minoranza a Bergamo trova 50-60 persone è grasso che cura non il grasso del senato è una roba enorme ne trovi altri 100 a Milano ne trovi 100 a Roma ci sono i gruppi che prima facevano gli ambientalisti i vegani gli animalisti le scie chimiche i signoraggisti che capiscono che per risolvere quel problema bisogna conquistare il potere non è che noi possiamo star qui a litigarci io e lui io e te su quello che faremo il giorno dopo che abbiamo il potere se si lavorerà due ore se si lavorerà otto ore se il privato fa bisogna conquistare il potere per qualsiasi riforma qualsiasi cosa pur bella che noi riusciamo a fargli fare e il potere c'erano loro fanno quello che vogliono loro quando passò lo strumento di controllo sulla banca d'Italia da l'enna che ci farò la leggina per cui la banca d'Italia era di nuovo libera di fare quel cavolo che voleva sia sull'usura che sull'anacocismo quindi se il potere ce l'hanno loro dagli la moneta pubblica in mano a loro ma se ce l'ha Bersani Berlusconi o Monti rubano di più quello che rubavano prima se possono fare la moneta loro il problema è che noi abbiamo un'idea di massima di come può funzionare meglio una società e poi quando avremo conquistato il potere allora potrai esercitarlo e fare le robe qualsiasi roba tu dica oggi di fare le strade perché ci sono le blu che hanno bisogno di lavare l'impresa come diceva lui o dicono bene fammi avere i soldi io faccio il mio appalto il 10% lo do partito con gli altri mi faccio le ferie oppure la villa o mare sono d'accordo tutte le cose che possono essere buone gestite da questo sistema al contrario di Rimida ciò che tocca cazza di venza allora il problema è avere il potere e per portare il popolo al potere